Ciao a tutti, nel video di oggi, la giornata in casa Ferragnez inizia con il piccolo Leo che dà tanti bacini a tutta la famiglia. Poi, dopo aver mangiato un delizioso toast, Leo trascorre tutto il pomeriggio correndo intorno al tavolo, mentre guarda i supereroi in tv. Vi lascio al video, buona visione. Buongiornissimo! Buongiornissimo! Ciao E la sorellina, un bacetto? E un bacione a papà? Sono finiti i baci? Sì Buongiorno! 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 com'è il toast amore buono tanto buono tanto buono tanto quanto vai a prendere un altro pezzo dai vai ahahahahaha a 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 chi abbiamo qui va bene è il mio preferito o è anche il tuo preferito sì ah sono d'accordo è il nostro preferito da adesso chi è l'amore della tua vita? papà ok ok grazie amore no della tua vita chi è l'amore? è la mamma sai cosa manca a questo look? un phone in slow motion per dare quell'effetto diva ah no mi sono messo la foto vabbè fa niente dai ragazzi da foodspring hanno veramente capito la mia passione per i toast e mi hanno mandato un golden toast kit con la crema proteica al caramello salato che sarà buonissimo e adesso mi metto subito all'opera ciao 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 today's shoes are my new favorite chiara ferragni kitty heels so cool you can swipe up here i'll see you next time Grazie a tutti 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 Grazie a tutti